Continua a sorpresa il campionato della Serie A, il nostro campionato, continua divertendo, ecco a me l'ha divertito, oggi non sapevo di che parlarvi generalmente, mi sono visto questa partita, ho scelto appunto di parlarvene prima di cominciare però vi ricordo come sempre che qualora voleste acquistare una maglietta del Brescia o del Bologna, una mia maglietta del mio merchandising, trovate tutto qua sotto in descrizione, la maglia di Mia Ailovic, la maglia di Orsolini, la maglia di Balotelli, insomma ho dato un occhio ovviamente ai link in descrizione. Detto questo, potete anche seguirmi sul mio secondo canale, sto portando dei video, link in descrizione o anche su TikTok, su Instagram, su tutti i miei social network, insomma il papie di roba lo trovate qua sotto nell'info box. Detto questo ragazzi il Bologna oggi batte il Brescia e batte un Brescia che io rido, rido a pensare che questa squadra che ci metta quell'impegno, che ci metta quella voglia, che faccia quel mercato di merda, ma sia sempre lì a dar fastidio, sia ultima in classifica perché penso siate tutti più o meno d'accordo con me che in questo momento le rondinelle non meritano assolutamente l'ultima posizione, oppure per classifica, per risultati magari li meritano anche, però diciamo anche che erano anni, anni che non si vedeva un'ultima in classifica che comunque reggesse botta contro qualunque squadra gli si ponesse di fronte. Oggi comunque abbiamo visto un Bologna che arrivava da decimo, ma che in casa faticava abbastanza perché è una squadra che molto spesso fa gol, fa gol ta, fa tanti gol, fa gol tanto, segna spesso, però prende anche tanti gol ed è una squadra che in casa fa un'enorme fatica. Di fronte si presentava ovviamente il Brescia, che è una squadra che aveva super bisogno di far punti e che soprattutto è una squadra che ha quella cazzimma che esce fuori soprattutto negli altri stadi. Non so perché, ci sono queste squadre, anche il Lecce un pochino, che almeno quest'anno solitamente poi il Lecce faceva della propria casa del Via del Mare del Fortino. Ecco il Brescia quando va a giocare fuori dimostra di essere una squadra che non ti lascia assolutamente respirare. Infatti ho detto, ho fatto 1-1, ho detto sì il Bologna potrebbe anche vincere, però assolutamente non passeggerà. E questo effettivamente è stato, anche perché poi il Bologna era pure aiutato dalla presenza di Sinisa Mihailovic, chiedite quello che vi pare a voi, però ragazzi quando Mihailovic è in panchina il Bologna si gasa, il Bologna scende in campo con una cattiveria non scontata. Mi incuriosiva particolarmente l'arrivo di Barro, ve ne ho parlato settimana scorsa sul secondo canale, di Barro ve ne ho parlato della partita del Bologna settimana scorsa sul secondo canale, per questo vi dico, oggi è capitato che il post di Bologna a Brescia lo faccio qua, magari settimana prossima un post del Bologna o del Brescia lo faccio sul secondo canale, quindi seguitemi anche lì. E vi avevo parlato del calcio mercato proprio ieri nel video speciale del calcio mercato, quindi mi ero soffermato su Barro. Ero molto curioso, molto, di vedere Barro con la maglia del Bologna, anche perché al debutto aveva fatto gol. E oggi, secondo me, entrando a partita in corso per l'infortunio dopo dieci minuti, ancora una volta si dimostra essere un giocatore importantissimo. È vero che scivola ogni 3x2, però al di là di questo credo si sia dimostrato un giocatore piuttosto importante per il Bologna. Tra l'altro io capisco anche che Mieluic voglia farlo ambientare pian piano, capisco che stia praticamente, si stia avvicinando al... lo stia avvicinando alla sicurezza, però credo che Barro debba essere il titolarissimo di questa squadra e pian piano lo vedremo proprio lì, titolarissimo. Un Bologna che inizia con i soliti, un Bologna che conferma i soliti, un Bologna che fa giocare Dersville ancora da adattato, anche se poi a me lì da adattato manco mi dispiace troppo. Io oggi l'abbiamo visto che comunque è un ottimo giocatore. Un Bologna che tra l'altro recupera Bani, ecco. E Bani sarà un po' la chiave di tutto, perché Bani è poi quello che fa il gol, che decide la gara. Sto scouten sembra uno scout, per come lo so di, lo scouten. Però, però, non mi dispiace, io non mi sorprende, non so quanti anni abbia, non lo conosco, però non mi sorprenderei se già dall'anno prossimo, se da giugno, finisse sul mercato a prezzi molto alti, perché quello che sta dimostrando a Bologna è che comunque è un giocatore molto aggressivo che assolutamente non ti fa respirare. Dersville lo conoscevo da FIFA, poi l'avevo visto qualche partita questo giocatore olandese, pian piano ha preso sempre più sicurezza al Bologna, secondo me può far bene. A 5 dalla fine Santander c'ha sta palla, che io mi domando come ha fatto a non buttarla dentro. Va tanto così, va tanto così da far gol, e lì devi spaccare tutto Santander in tutta la tua macchinosità, ma poi la decide Bani. Che bravo Barro, penso fosse Barro a dare quel pallone lì, spero di non sbagliarmi. Che bravo Palasio a spizzarlo, però ragazzi, ma Cistana, ma Cistana. Da quando l'hanno convocato, da quando hanno convocato Cistana e il nazionale, ha fatto più errori che il respiti praticamente. È stato espulso quella volta con rigore che ha distrutto il Brescia contro la Lazio, oggi ha fatto quell'errore lì, poi vabbè non è che posso buttarlo al patibolo, però va detto anche che la tocca lui, manda a Pegoroni al portiere, quello di dietro. Non lo so, per me l'errore di Cistana qui c'è, è un errore di inesperienza e costa tanto al Brescia. Vabbè, fatemi sapere la vostra, soprattutto ragazzi, voglio sapere se secondo voi, se secondo voi questo Bologna può andare in Europa, perché in questo momento è comunque un punto dall'Europa, c'è una partita in più, ma è un punto dall'Europa e a meno 9 dalla Champions. Sta continuando a correre, sta continuando a scalare la classifica, non se sa mai. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, mi piace, se vi è piaciuto, se vi è fatto cagare, ma come sempre spiegatemi il perché. Io vi ringrazio per aver visto questo video, buonasera all'allene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.